In un minuto una famiglia può perdere tutto, la propria casa, i propri cari, il proprio futuro. Ma in un minuto tu puoi aiutare una famiglia di rifugiati a trovare un riparo, conforto, speranza. A te basta un minuto. Aiuta l'UNHCR a proteggere una famiglia. Visita il sito unhcr.it onefamily. A te basta un minuto.